Dottor Pastori, il coronavirus sarà benigno con i munisani? Noi ci troviamo in una situazione abbastanza favorevole vista la scarsa popolazione del territorio. Infatti le possibilità di contatto sono inferiori rispetto a delle altre zone e questo è un elemento favorevole. C'è stata quella fuga da Milano però che può rappresentare un elemento perturbante sul territorio. Speriamo che non si vengano a determinare dei fogolai e rimangano come è stato fino adesso dei casi sporadio. È fondamentale seguire quelle che sono le indicazioni che ci vengono date, cioè non avendo farmaci attualmente da poter utilizzare contro questo virus. L'unica cosa è la prevenzione. La prevenzione sono quelle regole per cui se stiamo in casa invece di uscire è meglio. Se non ci addensiamo come popolazione, se manteniamo le distanze, se controlliamo quelli che sono i nostri gesti anche da un punto di vista igienico, probabilmente come è successo, come sta succedendo in Cina, l'epidemia tenderà a regredire. In ogni caso chi sarà colpito troverà assistenza in Regione? Allora, com'è la situazione attualmente? Sì, ci sono degli spazi di relativa tranquillità nel senso che l'apparato sta funzionando in quanto siamo in grado di dare risposte in questa situazione alle esigenze che si vengono a determinare. La cosa importante è che non si addensino eccessivamente in un breve tempo, in un breve spazio, troppi casi per cui il sistema può essere messo in crisi in questo caso qui. Grazie. 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 Grazie.